Dacili all'America è l'avventura sportiva di Claudio Scotti, 23 anni, che dal Cali Roma passerà al New York Mets. Io ho iniziato a 10 anni dopo aver giocato 6 anni a calcio e mi sono appassionato subito di questo sport. Sono venuto a giocare qui al Cali Roma e ho giocato 5 anni nelle giovanili, poi ho puntato a un po' di più. Sono andato in Accademia, sono andato a vivere da solo già da 15 anni e dopodiché sono riuscito ad andare in America con i Pittsburgh Pirates. Poi sono tornato purtroppo perché non ero all'altezza, ero troppo giovane. Ho fatto altri 4 anni qui in Italia giocando con la Fortitudo Bologna e ora si ritorna lì avendo la seconda possibilità. Ecco, allora qual è questa squadra e cosa ti aspetti da questa esperienza? Vado a giocare con i New York Mets e non mi aspetto nulla sinceramente, vado lì e la vivo giorno per giorno. Spero con tutto il cuore che tutto vada come devo andare e si spera nel meglio. Hai già pensato alla logistica, come ti sistemerai? Sì, ma lì sono organizzatissimi, pensano tutto loro, quindi io devo pensare solo a giocare, ad allenarmi e a dare il 100% ogni giorno. Quest'anno il tuo Cali, posso dire così, compie 50 anni e così sarà un pensiero oltreoceano per questa società che ti ha lanciato? Certo, c'è sempre un pensiero per questa società, è la mia infanzia, mi hanno dato tutto e rimarrà sempre nel cuore per me. Un ragazzo che senz'altro porterà alto il nome del nostro territorio, da Cilia per Canale 10, Alberto Tabin.